Buongiorno a tutti, sono Carlo Masuero. Cogliendo l'invito dell'amico Raimundo Cesa, sono lieto di partecipare, sia pur in modo virtuale, all'iniziativa Vitamine Jazz, a cura della Fondazione Medicina a misura di donna. Oggi suonerò per voi un brano famoso di Carlo Sant'Anna dal titolo Flor de Luna. L'ho riadattato in chiave latin e ve lo propongo. Lo dedico a tutto il personale medico e paramedico dell'ospedale Sant'Anna e a tutte le pazienti. Buon ascolto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.